Dopo la diffusa rivolta nella capitale Bishkek e l'estromissione del presidente Bakiev, la situazione in Kyrgyzstan si è ulteriormente aggravata con violenti scontri tra i due principali gruppi etnici, i kirghizi e gli uzbekki. Rovesciato il governo precedente regolarmente eletto ne è stato proclamato uno provvisorio con la nomina di Rosa Otunbaeva presidente ad Interim. Dopo il referendum sulla nuova Costituzione tenutosi a fine giugno, Otunbaeva ha giurato il 3 luglio con la promessa di celebrare le elezioni. Costantino De Miguel l'ha intervistata per Euronews. Presidente, può descrivere i tragici eventi che il suo paese ha sofferto? Quanti morti, feriti, sfollati? Sono stati registrati circa 270 morti dal nostro servizio medico, ma ciò non significa che si tratti del numero effettivo. Poiché la tradizione vuole che la sepoltura avvenga lo stesso giorno, il numero reale di vittime è più alto. Sappiamo che il terzo partito del paese ha di essere molto interessato a fomentare tutta questa violenza. Li dobbiamo identificare, ma sappiamo che molti di loro sono estremisti religiosi. Stanno cercando di creare con il sangue un califato religioso. Sfortunatamente in tutti questi tentativi è stata molto coinvolta la famiglia del passato presidente. Come il suo paese sta affrontando la crisi umanitaria a OSH? Come sta assistendo quelle persone che sono sfuggite alle violenze interetniche? Circa 110.000 persone sono fuggite dall'Uzbekistan. La maggior parte di loro erano donne, anziani e bambini. Ora sono tornati, praticamente sono tutti in Kyrgyzstan, ma nei loro luoghi non trovano più le case, le attività commerciali, hanno perso i loro parenti. Ora numerose organizzazioni internazionali sono arrivate per aiutarci in questo momento di bisogno. Quale tipo di sostegno è necessario da parte della comunità internazionale per consolidare il vostro regime democratico? Abbiamo bisogno di aiuto in questo processo di consolidamento del potere, per rafforzare la democrazia nel paese. Prima di tutto, la mia più grande preoccupazione è subito, in piena estate, assicurare un tetto per quelle persone che sono oggi vittime di questo conflitto. Abbiamo bisogno di case e quindi di materiali per edificarle. C'è una nazione che sta aspettando la sua ricostruzione. Può contare sulle forze di polizia e sull'esercito? Abbiamo allo studio in questo momento un progetto per costruire un contingente di polizia, delle forze di peacekeeping che tengano lontani Kyrgyz e Uzbekki. Abbiamo 13.000 uomini e abbiamo bisogno di istruirli ed equipaggiarli. Ma la popolazione nel suo paese non approva la democrazia dopo le elezioni truccate e l'anarchia che ne è seguita. Come potrà realmente ottenerne la fiducia? Abbiamo avuto un referendum che ha rappresentato un'immensa gioia per noi e una grande sorpresa per molti paesi. I risultati sono stati enormi. Sul 70% dei votanti il 90% ha detto sì alla nuova Costituzione e a me come presidente ad interim. Ho deciso che il mio contributo alla stabilità del paese sia diventarne presidente e nel frattempo, in un anno e mezzo, terremo le elezioni presidenziali, in modo tale da procedere passo passo verso la stabilizzazione. E io penso che la gente voglia stabilità, unità e pace nel paese.